La nuova 500X Sport combina novità nei motori, nell'handling e anche nello stile. Per quanto riguarda i motori abbiamo utilizzato il nostro 1.3 turbo da 150 cv della nuova famiglia Firefly appena lanciato poco meno di un anno fa e accolto molto bene sia dalla stampa che dal mercato per le sue doti di performance e brillantezza. In tutta sincerità abbiamo costruito questa vettura proprio intorno a questo motore che con la 500X Sport finalmente trova il suo contesto ideale. Per quanto riguarda gli update tecnici abbiamo lavorato sulla dinamica con nuovi cerchi da 19 pollici e nuovi pneumatici con spalla ribassata, abbiamo lavorato sullo sterzo che diventa più preciso nelle curve lunghe e veloci e più reattivo nel misto e abbiamo infine lavorato sull'assetto e sulle sospensioni. L'assetto è 13 mm più basso, le sospensioni più rigide. La 500X Sport diventa il crossover che prima non c'era. Ma attenzione perché si tratta di una 500 quindi quando si parla di 500 sullo stile non si scherza. Tante le novità anche nella parte di stile sia sugli esterni sono nuovi bumper anteriori e posteriori, nuovo il logo Sport sulle fiancate, abbiamo dedicato a questa vettura un nuovo colore rosso che abbiamo chiamato rosso seduzione e infine nella parte posteriore nuovo anche lo scarico doppio e cromato. Nuovi gli interni con dettagli in alcantara, nuovo il volante con disegno sportivo e nuovi i pedali sportivi e in alluminio. La 500X gioca per vincere, vince in Italia dove è leader di mercato fin dal lancio. È la vettura che conquista di più all'interno della gamma Fiat, pensate venduta in oltre 100 paesi del mondo e questa giornata qui a Coverciano ci permette di festeggiare anche le prime 500.500X vendute dal lancio. La Fiat è molto vicina al mondo dello sport in tanti campi, in tante attività e un po' in tutte le categorie. Ma quando si parla della nazionale italiana di calcio è chiaro che abbiamo voluto scendere in campo in prima persona. La relazione tra Fiat e la federazione italiana gioco calcio dura da 20 anni. Questo è il motivo per cui oggi siamo qui a Coverciano, il training center della federazione italiana gioco calcio dove appunto lanciamo la nostra nuova 500X Sport. La relazione tra Fiat e la federazione italiana gioco calcio la relazione tra Fiat e la federazione italiana gioco calcio la relazione tra Fiat e la federazione italiana gioco calcio tiene Rock. Traf e ho 15.000 vice vediamo a noi. 3.000 Lo stupendoanger internazionale isto, pumid dal nuovo sport uno stupendo ooh lo stupendo qualcosa. Il senso è al circa 3.000 Provera